Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 10 ottobre, vediamo cosa è successo sui giornali, tutti quanti si occupano della questione della manovra finanziaria perché ieri ci sono stati alcuni piccoli colpi di scena, mettiamoli così, piccoli perché ce li attendavamo, cioè che la Banca d'Italia nella sua audizione in mattina abbia bocciato di fatto la definizione del documento economico e finanziario, lo abbia fatto poi nella tarda serata anche l'ufficio di bilancio, cioè i tecnici della Camera dei Deputati, anche il Fondo Monetario Internazionale ha detto che questo documento economico e finanziario non va, i motivi fondamentali per i quali non va ragazzi sono sempre i soliti, non prendiamoci per i fondelli e cioè nelle 73 pagine del documento dell'ufficio bilancio della Camera si sostiene in realtà ciccia ciccia che la crescita dell'1,5% dell'anno prossimo reale e quella nominale, cioè considerando anche l'inflazione, sono del tutto fuori contesto, cioè loro non credono che si cresca a quella dimensione e se non si cresce a quella dimensione l'anno prossimo il debito non diminuisce, il deficit è più alto, insomma se non cresciamo tanto l'anno prossimo non possiamo permetterci quelle spese generose a Hug, Giorgio che invece la manovra prevede. Il documento economico e finanziario per chi volesse lo può leggere tranquillamente su internet, se lo trova, si chiama Nadef e di facilissima lettura, altrettanto non si può dire dai tecnici della Camera che scrivono una specie di linguaggio tutto quanto loro, questa è una piccola parentesi per gli addetti ai lavori. Questo è il dato e nel dato si inserisce tutti i giornali ricordano l'andamento pessimo ieri dello spread e delle borse. Fico in un'intervista oggi surreale al Corriere della Sera dice abbassare i toni, è molto divertente il fatto che il Presidente della Camera dica abbassare i toni perché ci sono due considerazioni che viene da fare in questo tempo, su queste dichiarazioni, la prima è il fico di pochi mesi fa che diceva che dava del delinquente, degli assassini e tutti quanti, dove è finito? Il secondo è che forse la Presidenza della Camera, cioè proprio quella sedia ha un effetto istituzionale incredibilmente forte. Visco scende in polemica e schiera Banca Italia all'opposizione, questo è il titolo della verità di Belpietro e dice Belpietro nel suo fondo tra l'altro ha parlato a mercati aperti, cosa che non si può fare, era udito da una commissione parlamentare quindi era difficile per Visco non parlare a mercati aperti obiettivamente e forse l'avrebbero dovuto pensare i parlamentari di convocarlo non a mercati aperti, ma il punto fondamentale che oggi mi sembra dimenticarsi è che Visco e la Banca d'Italia non hanno necessariamente ragione, non sto dando ragione a loro, ma il punto fondamentale è che spesso la Banca d'Italia ha rotto le scatole alle manovre dei governi perché la Banca d'Italia ha una sua posizione, è un interlocutore della politica economica dei governi, nel passato la faceva con i governi, nel recente passato ciò non è avvenuto. Vi segnalo che quelli che oggi si lamentano del fatto che la Banca d'Italia si è schierata sono gli stessi che magari difendevano la Banca d'Italia quando contro la Banca d'Italia si era schierato tutto il PD perché esattamente un anno fa, il 17 ottobre 2017, la Banca d'Italia fu attaccata nella persona di Ignazio Visco da una mozione del Parlamento che disse che dovevano sfiduciare Visco e questa mozione chi l'ha fatta? Il PD e oggi tutti a difendere la Banca d'Italia, cioè una specie di confusione totale. Il Sole ci spiega tutti i dettagli di queste critiche economiche. Sul Sole vi segnalo il fondo oggi a che cosa è dedicato, manovra, non manovra. Fabio Tamburini, il nuovo direttore del Sole 24 ore, si occupa della Consob dove questo governo ha fatto fuori il suo presidente. Non è che si è dimesso Nava, è stato sostanzialmente fatto fuori dall'abbraccio leghista e grillino che non amavano questo funzionario europeo, che io non amavo per niente, ma la procedura con la quale loro l'hanno fatta fuori è scandalosa. Tra l'altro una procedura che tutti quanti i retroscena ci raccontano è stata molto alimentata proprio da un grande collaboratore che Tamburini ha dato grande spazio, che è Minenna, ex uomo vicino alla CGL, poi ex uomo vicino ai grillini, insomma uomo per tutte le stagioni che è all'interno della Consob, che aspirerebbe, guardate un po' voi a fare che cosa, secondo i retroscena giornalisti, il presidente della Consob. Tamburini dice, fate presto, vogliamo un presidente della Consob. Questo presidente della Consob è stato fatto fuori anche grazie a Minenna e a tutto questo giro di persone che pensava che il presidente europarlamentare europeo non andasse bene. Tamburini chiede un nuovo presidente della Consob e inizia questa grande collaborazione con Minenna. Io non faccio 2 più 2, non sto dicendo minimamente che il direttore del Sole 24 Ore abbia una passioncella perché il prossimo futuro presidente della Consob sia il suo collaboratore Minenna, complice dell'uscita di scena di alcuni presidenti Consob. Nel frattempo Conte convoca, secondo il messaggero ma tanti altri giornali, le imprese statali perché dice dateci una mano per il DEF. Aiutateci sul DEF. Beh, insomma, voi sareste contenti che aziende statali del tipo ferrovie, del tipo autostrade, no scusate autostrade non sono ancora loro, del tipo Enel, del tipo Eni, del tipo Fincantieri, invece di pensare a fare soldi utili e a fare i loro investimenti tradizionali si occupassero del DEF. E allora è lo stesso Conte che col suo governo chiede alle ferrovie dello Stato di comprarsi all'Italia, questo è l'investimento per il futuro, cioè ferrovie dello Stato devono comprare all'Italia e questo è l'investimento per il futuro. Fincantieri deve fare un ponte di cui non ha alcuna conoscenza per farlo perché non ha l'autorizzazione per farlo, questo vuol dire gli investimenti, cioè quello che sto cercando di dire, che da una parte c'è il privato e dalla parte pubblico. Quando c'è la via di mezzo e quella di evidenza si chiedono aziende statali e alle aziende statali gli chiedi A, come ha detto Di Maio, di non investire più la pubblicità sui giornali, B, di investire per aiutarli sul DEF. Voi siete così contenti che l'Enel investa non tanto per se stessa e per il futuro, diciamo, di energie elettriche in Italia, ma per aumentare il DEF? Voi mi direte, e qualcuno può dirlo con grandissima legittimità, che è esattamente quello che fece Renzi quando chiese all'Enel di investire nella fibra al posto di Telecom. Insomma, è una partita molto complessa e molto affascinante, però il sole si occupa del presidente della Consob. L'Avvenire titola oggi sull'uscita molto importante del ministro degli esteri di Moavero che dice che la Libia non è un porto sicuro. Bah bah, non lo sapevamo. Detto questo però in realtà ce ne sono di questioni. Se la Libia non è un porto sicuro, come possiamo rispedire in Libia persone che noi non vogliamo in Italia? Paolo Isotta, favoloso, oggi come sempre l'ex clinico cinematografico, scusatemi, il menomane del Corriere della Sera, dice chi dice nero è un ipocrita che reputa il negro inferiore. Feltri lo cita spesso per chi dice Paolo Isotta, è uno di quelli che se gli dici che sei gay si arrabbia, dice soffro, so ricchiune, ma non mi definire gay perché si arrabbia per l'idea di queste ipocrisie verbali. Toninelli fa la sua figuraccia sul Brennero, ma io dico tremenda sul Brennero, posto via non capisco nulla di genografia, non so manco dov'è, non so quasi la Puglia, però il punto fondamentale è questo, su questi ministri, adesso ce la prendiamo con Toninelli che la dice e la spara enorme, la cosa del Brennero è incredibile, soprattutto perché lo fa con quella sicumera, ho parlato con gli imprenditori, però ragazzi guardatemi bene, quanti ministri abbiamo ucciso per le loro gaff e prima di mai, e vabbè fa parte sempre di questa maggioranza e vi ricorderete la Gelmini, cioè purtroppo la geografia è la materia più rompivalle che noi abbiamo fatto al liceo e alle medie, e quindi quante lacune di geografia, di infrastrutture, però voi dite al ministro delle infrastrutture, non li voglio, non voglio scusare Toninelli, voglio semplicemente dire non facciamo i fenomeni quando siamo a casa col computer, Wikipedia e Google, riesciamo a beccare tutti, chiaro? Tutti i fenomeni, no? Noi giornalisti tutti i fenomeni, se non avessimo Google saremmo morti, se non avessimo Wikipedia non saremmo nulla, sto difendendo Toninelli? No, sto difendendo semplicemente me stesso della prossima figura di merda che farò su cose simili a quelle di Toninelli, un po' diversa è la questione della taverna, lì scrive bene Repubblica che continua a tirar fuori questa vicenda, cosa succede? La mamma della taverna, c'ha 80 anni, dal 1994 vive in una casa popolare al Prenestino, questa casa popolare la paga 100-200 euro, ha una pensione minima, una pensione sociale, una pensione ancora non definita e nel 2014 si scopre, come è normale, visto che si fanno alcune revisioni, che lei ha una famiglia che non dovrebbe avere la casa popolare perché è un reddito superiore a quello per cui si gode della casa popolare, questo è tutto scritto su Repubblica e tutto più o meno sugli altri giornali è identica. Che cosa succede? Quindi dice tu non hai più diritto a stare in quella casa popolare, glielo dice nel 2014, lei fa tutti i ricorsi contro ricorsi all'italiana, nel 2017 l'ultimo ricorso della signora taverna, mamma, fallisce e qui dice devi andartene via, adesso deve firmare una cosa la Raggi e anche a quella si è opposta, ha cercato di avere una sospensiva dallo sfratto ma non l'ha avuta, insomma ha perso su tutti quanti i fronti, sia su quelli del reddito sia su quelli dello sfratto, quindi questa signora non ha diritto di stare in quella casa e non solo, lo sfratto è praticamente esecutivo ma comunque sta là. Tra l'altro il motivo per il quale sta là è che ha anche un'altra casa sempre a Roma, poi ha un'altra casa in Sardegna e va a vari vani in giro per l'Italia. La obiezione che si fanno sono due, quella di Repubblica e quella di dire ragazzi ma facevi tanto la moralista, rompevi tanto le balle, tua madre non ha diritto di stare in quella casa e non ci deve più stare, ma la taverna dice beh mia madre è vecchia e vorrebbe morire nella casa in cui c'è stata per tanti anni e anch'io ho vissuto, però Repubblica va per la sua strada, ma siete voi quelli di onestà e onestà, siete voi quelli che ci avevate detto che non bisogna dare le case popolari a chi non se ne meritava e questa signora se lo merita posto che sono state fatte tutte le procedure e c'è scritto di no o solo. Farina invece, Renato Farina va su un tema un po' diverso, molto diverso, dice c'è una cosa che non mi convince, Renato Farina in questo è molto interessante nella sua fase, dice che la taverna ieri in un post su Facebook dice insomma Repubblica se volevi dire che noi siamo una famiglia povera, noi siamo una famiglia povera, sei contenta Repubblica? Eh no, dice Farina, e allora non ci stiamo, perché tu cara taverna guadagni 15.000 euro al mese, va bene che ne dai un po' al partito, ma sono 15.000 euro al mese e poi cara taverna, tu c'hai un appartamento, tua madre ne ha due appartamenti, avete una casa in Sardegna, avete una pensione minima, veramente vi considerate tra i 5 milioni più poveri di questo paese? È perché se no non va bene niente, dice giustamente Farina, se questo è il criterio della povertà, cioè avere una figlia senatrice, la mamma con una pensione e con un paio di appartamenti, beh allora insomma siamo un po' fuori luogo e secondo me dice, non so Barbara se sono tre le case, una sicuramente a Torremaura a Roma e un'altra in Sardegna, questo è quello che scrivono i giornali, io non lo so, però l'obiezione che questa non si può definire una povera donna da parte di Farina mi sembra un'obiezione sacrosanta. Tra l'altro la cosa che a me, devo dirvi la verità, mi fa impazzire è che queste obiezioni mi sembra quasi ridicolo farle perché sono stati loro, è stato loro ad avvenenare il mondo della politica, per cui se tu avevi un padre che aveva una casa popolare, un padre che aveva un assegno di pensione, di invalidità, o avevi un posto di lavoro particolare, o prendevi una segretaria di vent'anni e le dave 80.000 euro, oppure sbagliavi il nome di un ponte, sono loro che hanno avvelenato i pozzi dicendo che erano tutti disonesti e merde e dovevano andare a fanculo. Oggi se vi sento che nei loro confronti si utilizza uno strumento altrettanto violento, figuratevi, io non l'avrei usato neanche nei confronti degli altri e neanche nei confronti dei grillini, però lo capisco chi oggi su queste cose si indigni. Proprio voi? Proprio te, Taverna? Proprio tua madre? Proprio voi state facendo quello per il quale avete accusato la classe politica della Prima e Seconda Repubblica? Punto di domanda. Questo è quanto troviamo oggi sui giornali. Io vi do appuntamento, come sempre, con la zuppa di porno domani, dovrei essere a Palermo, domani sono a Palermo quindi non la facciamo da questi candelabri qua dietro, vediamo se riusciamo a farla per tempo e ovviamente sul sito nicolaporro.it tante altre notizie di giornata. Nicolaporro.it condividete se vi piace la zuppa. Ciao!